Stefano Colantuono, il primo ad arrivare al centro Bortolotti di Zingonia e il primo quindi ad iniziare ufficialmente questa stagione 2012-2013. Sensazioni particolari a varcare il cancello di Zingonia? No, no, c'è sempre gioia quando si varca il cancello di Zingonia, anche se sembra, ne parlavo prima con uno spagnolo, sembra ieri che siamo andati via, già siamo di nuovo qui, però sono contento, tra le altre cose sta cambiando a vista d'occhio Zingonia perché tanti lavori, il centro sta diventando una cosa meravigliosa, quindi siamo sempre più contenti di lavorare in questa splendida realtà. Ecco, sarà ancora più bello quindi impegnarsi, lavorare, sudare per questi colori nerazzurri? Sì, sarà più bello, lo avremmo dovuto fare ugualmente ma lo facciamo con ancora più voglia, più attaccamento perché la società sta facendo grandi sacrifici per renderci il lavoro più agevole possibile e noi dovremo fare il possibile per ricambiarli. Mister, Atalanta è una serie di partenza, c'è ancora una penalizzazione, di certo non è il meno 6 dell'anno scorso, qualcuno dice, beh, tanto all'Atalanta hanno fatto le ossa esperienza ma l'Atalanta non sarà più la sorpresa perché un po' l'anno scorso magari partendo come è partita questa squadra ha un po' sorpreso tutti, poi si è confermata e quindi Atalanta forte dalla prima all'ultima di campionato. Sì, proprio per questi motivi sarà molto più difficile quest'anno, quindi invito tutti a rimanere sul perso, concentrati perché mentre l'anno scorso qualcuno che aveva fatto male i calcoli, non ci aveva dato già per spacciato, l'Atalanta non è promossa con meno 6, non la salva nessuno e invece poi ne abbiamo ribaltato questi pronostici. Quest'anno sarà diverso perché non siamo più una sorpresa, abbiamo fatto un grande campionato, tutti hanno visto che giocare contro l'Atalanta è molto difficile, insomma molto difficoltoso e quindi si attrezzeranno bene e non vorrei appunto che poi il meno 2 diventasse una formalità, visto e considerato che l'anno scorso siamo stati bravi con almeno 6. Io dico che quest'anno sarà più difficile per tanti motivi, intanto perché come dicevo Paganzi non siamo più una sorpresa, poi perché il campionato lo vedo molto 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 difficile in quanto sono venute, sono state promosse dalla Serie B squadre blasonate e importanti come Sampdoria e Torino che sicuramente faranno una squadra, si attrezzeranno per fare un buon campionato, quindi sarà tutto molto più difficile e noi dovremo dimostrare di essere all'altezza come abbiamo fatto l'anno scorso. Sono convinto che sarà così, però ecco invito tutti già dal primo giorno a dedicarsi come l'anno scorso, anima e cuore a questa splendida avventura che sarà, ripeto, piena di insidie. La forza di questa Atalanta l'anno scorso era stato il gruppo, era stato Stefano Collantuono capace di cementare tutte le varie parti, tutti i vari settori, tutti i vari giocatori. Questo zoccolo duro che si ripresenta ai nastri di partenza di questa stagione. Sì, infatti è stata una scelta proprio perché dobbiamo ricalcare quello che è stato il percorso dello scorso campionato, quindi lo zoccolo duro rimarrà, una gran parte dei giocatori del campionato appena passato rimarranno, andremo a mettere dentro dei giocatori qualcosa già abbiamo messo che ci servirà per dare intanto per mettere facce nuove che servono anche a dare stimolo agli altri e poi perché arrivano giocatori che sicuramente faranno bene per quello che riguarda la nostra causa. E quindi niente, si riparte con la stessa compattezza. Il sol con l'Atalanta ce l'ha tracciato da parecchi anni e noi dobbiamo solo proseguire su quella linea. L'ho detto anche l'anno scorso a fine campionato, questa linea la traccia la società, il sottoscritto e gli altri si devono allineare. All'Atalanta ci sono delle regole ben ferme e ben ferre. Si può perdere anche la partita ma l'impegno, l'attaccamento, la voglia di fare, la maglia sudata sempre come c'è scritto fuori dallo stadio, quelle non possono mai mancare perché solo così possiamo raggiungere i nostri obiettivi. C'è un progetto importante che deve crescere, deve essere alimentato ma deve crescere. C'è un progetto a medio-lungo termine importante per i colori nero-azzurri? Sì, c'è un progetto e questa è una motivazione in più perché credo che per tutti noi che vogliamo far parte di questo progetto ci sono i risultati. Se riusciremo a tenere dei risultati importanti tutti quanti potremo far parte di questo progetto e credo che oggi riuscire a confermarsi all'Atalanta è una cosa di grande prestigio perché io reputo l'Atalanta una delle prime dieci società del campionato e quindi stare in questa società è molto importante, deve essere appagante, appagante per quello che riguarda aver raggiunto una squadra di un certo prestigio, non appagante per quello che riguardano i risultati perché noi se possiamo dobbiamo sempre alzare un pochino l'asticella. È stato importante l'anno scorso l'apporto del pubblico? Qui a Bergamo è una caratteristica ormai, perlomeno per quello che ho vissuto io, questo è il quinto anno che vado ad iniziare, è una caratteristica della quale non possiamo farne a meno, è una spinta in più e non aiuta in più, l'anno scorso è stata una cosa straordinaria, è vero che noi abbiamo aiutato tutti con i risultati ma è anche vero che tanti risultati li abbiamo fatto perché c'avevamo dietro quella gente che spingeva in maniera importantissima. Mister pronto, carico, si è iniziato, si sta iniziando? No no io ho già iniziato, anzi ho già iniziato da qualche giorno perché poi onestamente non è che stacchi mai, tra parlare sempre di calcio, c'è il mercato, vedi i giocatori, vedi i DVD quindi praticamente non si è mai staccato ma io sono ben felice di ricominciare anche perché è un periodo che fa molto caldo e a Rovetta se non altro staremo freschi.